ANSA VOICE DAILY, l'approfondimento di oggi Un saluto ben trovati all'approfondimento Un solo genitore può camminare con i figli minori purché in prossimità della propria abitazione Lo precisa l'ennesima circolare inviata dal Viminale e ai prefetti per fornire chiarimenti sul divieto di assembramento e spostamenti Si tratta di indicazioni, spiega il capo di gabinetto Matteo Piantedosi, da trasmettere alle forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi E non sono giorni semplici per gli operatori in divisa, che anche ieri hanno controllato ben 222.450 persone e 88.611 esercizi commerciali per verificare il rispetto delle misure per il contenimento del virus Quasi 6.500 sono state denunciate, 15 delle quali per aver violato la quarantena Queste ultime ora rischiano il carcere da 1 a 4 anni per aver attentato alla salute degli altri cittadini Dall'11 marzo sono state controllate complessivamente 3.449.291 persone e 1.566.961 esercizi commerciali In totale oltre 142.000 i denunciati Negli ultimi 5 giorni 272 sono stati sanzionati per violazione della quarantena Sono dunque tanti ancora gli italiani che non rispettano le prescrizioni In diversi casi ci sono poi dubbi sull'interpretazione da dare di vieti da parte dei cittadini e anche delle forze dell'ordine Ed ecco che la nuova circolare prova a chiarire, auspicando valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete Una delle esigenze emerse nel paese è quella di concedere un'ora d'aria ai bambini Sul punto il Ministero precisa che ha un solo genitore consentito camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto purché in prossimità della propria abitazione La stessa attività può essere svolta inoltre nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute Il documento del Viminale ricorda poi che restano off-limits parchi e giardini e che l'attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all'attività sportiva Jogging, tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui è l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi potendosi far ricomprendere della prima il camminare in prossimità della propria abitazione Ok anche agli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza in ragione della riconducibilità degli stessi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute in ogni caso ribadisce la circolare tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona Il divieto di assembramento infine non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza ad esempio le case famiglia in queste strutture comunque chiunque acceda dall'esterno sarà comunque tenuto a rispetto del divieto di assembramento della distanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari mascherine e guanti